C'è stata questa mattina la riunione del Comitato della Sicurezza in Prefettura e si sono assunte delle decisioni. Veniamo, come ha ben detto, dal tavolo della Prefettura, dove ci hanno informato che gli eventi sono quattro. Avremo una cicloturistica che arriva da Mondolfo e per la quale non è prevista l'obbligatorietà della chiusura delle strade, ma a seguire inizierà il giro delle e-bike che invece prevede già la chiusura delle strade. Da cronoprogramma il giro delle e-bike arriva nel territorio comunale poco dopo le 14, per questo motivo in via prudenziale intanto è stata prevista la chiusura alle ore 13, che potrebbe magari slittare di qualche minuto perché poi il momento preciso di chiusura ci viene dato da disposizioni della Questura. A seguire il giro delle e-bike arriveranno poi le carovane e alla fine il giro vero e proprio, il cui arrivo nel nostro territorio, è previsto poco dopo le 16. Tutto questo, Comandante, impone un determinato comportamento da parte degli utenti della strada. Quale consiglio ci può dare? Sicuramente per garantire l'evento in sicurezza il giro deve essere sgombro da veicoli e non è possibile transitare. Per cui fare attenzione a tutti i divieti che ci sono, perché noi dovremmo presidiare tutte le varie intersezioni che ci sono lungo il giro. Sono esattamente 178 gli incroci che noi abbiamo conteggiato, che saranno presidiati da personale di polizia locale, da personale di protezione civile e quelle vie, magari secondarie, che sono anche delle vie chiuse, semplicemente con delle transenne. Ma lungo il percorso ci sono anche molte abitazioni. La raccomandazione per chi abita nelle case che sono dentro proprio il percorso, di non uscire o entrare con veicoli nell'orario di chiusura e la raccomandazione anche per chi detiene gli animali, di avere attenzione a una corretta detenzione, perché anche un semplice animaletto che possa poi uscire, andare nel percorso mentre passano i ciclisti, potrebbe causare un pericolo, insomma un disagio. Disagio alle circolazioni ne avremo, ora poi vi verranno illustrate anche quelle che sono le zone di divieto di sosta. L'invito alla cittadinanza è di fare ben attenzione perché poi queste zone devono essere libere da veicoli, perché questi devono essere occupati da mezzi dell'organizzazione o perché ci deve proprio passare il giro, quindi per motivi di sicurezza. E quando cominceranno le chiusure? Inizieranno alle ore, nella zona di arrivo, già alle ore 18 del giorno precedente, perché poi di verranno presidiate e verranno con dei mezzi dell'organizzazione. Altrimenti le chiusure di tutto il resto del giro inizieranno il giorno 16, quindi il giorno del giro dalle ore 13 circa. Il problema dei parcheggi e dei divieti di sosta è un problema importante che interessa moltissimi utenti del nostro territorio. Sì, in sostanza per l'arrivo del giro sono previste tre fasce orarie nel territorio comunale. La prima fascia oraria richiama quello che è il percorso del giro, quindi raccomandiamo di fare attenzione a tutte quelle che sono le vie percorse del giro perché lì il divieto di sosta partirà dalla mattina alle 8.30. Poi c'è una seconda fascia oraria che inizia in realtà dal giorno prima e che tratta tutta la zona dell'arrivo, questa evidenziata in rosa, in cui il divieto di sosta comincia già dalle 16 del 15 maggio. Una terza fascia oraria che riguarda il parcheggio del Forro Boario, il cui divieto di sosta partirà invece dalle ore 20 del 15 maggio raccomandiamo ai mezzi pesanti di utilizzare l'ingresso dell'autostrada, preferibilmente a Marotta e a Pesaro. Poi in sostanza il traffico che arriva a Fano, da Marotta, non subirà grossi disagi proprio perché la viabilità alternativa è consentita fino alla zona dell'autostrada e della superstrada. Per quanto riguarda invece il traffico di attraversamento da Pesaro, la viabilità alternativa dalla sera prima è quella che Fano utilizza un po' per il carnevale, però ecco, dalle ore 13 in poi questa viabilità alternativa subirà dei disagi. È per questo che abbiamo comunque previsto in zona di via Modigliani la trasformazione della via stessa in transito a doppio senso. Gli autobus potranno circolare? Allora, gli autobus, anche per gli autobus ci saranno dei disagi. Il punto di stazionamento degli autobus, quello che è la stazione, grossi disagi non li avrà, ma sarà difficoltoso l'attraversamento delle fermate nel territorio da quella fascia oraria. Dalla sera prima abbiamo spostato comunque il punto, diciamo, di fermata degli autobus nel parcheggio di via della Giustizia dove anche lì è interdetta la sosta eccetto autobus proprio per consentire, diciamo, la sosta degli autobus, ecco, di trasporto pubblico locale. Per quanto riguarda il transito dal centro storico in uscita, anche lì abbiamo previsto una viabilità di uscita attraverso via Cristofalo Colombo e attraverso, diciamo, della viabilità della zona mare che potranno raggiungere sia direzione nord e direzione sud dalla zona mare, dal centro storico.